Ad Agrigento la giornata di ieri è stata funestata dalla morte di una bambina di appena un anno. A pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio nel pomeriggio la piccola è arrivata agonizzante. Aveva la febbre alta e poco dopo l'ingresso, mentre veniva sottoposta ad accertamenti sanitari, la piccina un anno appena è morta. Figlia di immigrati, la bambina era stata già ricoverata una decina di giorni addietro al reparto pediatria. Aveva la polmonite, ha risposto bene alla cura di antibiotici, il tampone Covid-19 risultato negativo e quando i medici l'hanno ritenuta guarita è stata dimessa. Pare che un paio di giorni dopo essere tornata a casa la bimba abbia ripreso ad avere la febbre. Ieri pomeriggio alle 15 circa è stata portata d'urgenza da mamma e papà al pronto soccorso dell'ospedale di Agrigento. La piccina era però già agonizzante e poco dopo l'ingresso in ospedale, espirata. A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione dei medici. Come protocollo sanitario prescrive, la bimba è stata sottoposta a tampone post-mortem per appurare la presenza o meno del virus Covid-19.